La storia di tradimenti e di minacce a Catania Storia di tradimenti e di minacce a Catania dove un uomo, dubbioso sulla fedeltà della moglie, ha sottoposto i suoi due figli al test del DNA. I piccoli, di 3 e 1 anno, sono quindi stati sottoposti ad analisi genetiche che hanno confermato i dubbi del genitore. Se per il figlio più grande dell'uomo è stata confermata la paternità, per il secondo i dubbi erano fondati scatenando la rabbia del marito padre tradito. A quel punto H. ha messo alle strette la compagna di una vita. Chiedendole se lo avesse tradito. Dubbio confermato 2. Se il bambino non è può, è possibile che sia proprio di quella persona che temi. Alla fine l'arcano è stato svelato con un nuovo test del DNA, che ha stampato la triste verità sulla coscienza dell'uomo. Il bimbo più piccolo è figlio dell'ex amante della moglie. Il padre ha pensato di disconoscere il secondo figlio per poi riadottarlo. E infine H. ha contattato l'ex della moglie, cominciando a minacciarlo. La vittima ha denunciato l'uomo per minacce. La vittima ha denunciato l'uomo per l'uomo per l'uomo.